In tutto 32 ettari di terreno, un vigneto, bosco e macchia mediterranea andati in fumo per mano dell'uomo in due differenti occasioni nel Neretino. In queste ore un agricoltore piromane incastrato dalle telecamere piazzate nella zona ha ammesso le sue responsabilità. Dopo vari accertamenti effettuati sul campo, con l'ausilio delle immagini, i carabinieri forestali del nucleo dei Gallipoli, sono arrivati all'identificazione del presunto autore dell'incendio del 27 luglio scorso, incontrata Bernardini in agro di Nardò denunciandolo. Si tratta di un agricoltore che nel tentativo di eliminare col fuoco la vegetazione ai lati di una strada poderale, incurante del vento sostenuto, provocava un incendio dell'estensione di circa 7 ettari, investendo un vigneto ed altri terreni. Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, è stato lui stesso davanti ai militari ed assistito da un difensore ad ammettere di essere l'autore anche di un altro incendio che aveva interessato vegetazione boschiva a macchia mediterranea il 9 luglio con un'estensione ancora maggiore, 25 ettari totali di cui 13 di bosco e 12 di terreni seminativi ed uliveti. I controlli a tutto campo e le indagini successive ai roghi dei carabinieri forestali nel Salento, nei casi in cui non sia stato possibile identificare l'ennimmediatezza e gli autori degli incendi stanno producendo buoni risultati. Dall'inizio di questa stagione una persona è stata arrestata a Racale, mentre altre quattro sono state denunciate a piede libero in diverse zone della provincia di Lecce.